questa è una risonanza europea la terza coppa l'hanno istituita è giusto così anche se mi è sembrato un'esagerazione per me invece ci sta che si esulti così insomma che si faccia un po' di festa soprattutto diciamolo chiaramente Napoli e Roma non sono piazze vincenti eh quindi il busto scoperto centomila persone come se avessero vinto chissà cosa già se fosse stata Europa League avrei capito di più staremo a vedere anche come festeggerà il prossimo vincitore della Conference League intanto noi ci ritagliamo un piccolo spazio piccolo per modo di dire anche perché il tema è molto complesso molto complicato perché stiamo leggendo no Umberto che il Milan è praticamente in procinto di cambiare società a Redbird con Jerry Cardinale il presidente che già è in città per chiudere l'affare questo è stato anche un take della scorsa giornata che verrà approfondita poi anche in questa sì prego poi abbiamo già i nostri due ospiti in linea e oggi devo dire io ho una grande ammirazione infinita come tutti noi per un mito del calcio che è Paolo Maldini l'intervista di oggi sulla gazzetta non mi è piaciuta quando lui dice io e Massara non siamo stati ancora chiamati e siamo a scadenza e questa cosa non va bene dovrebbe sapere più di chiunque altro che c'è un passaggio di società certo e e che e che li hanno anche verbalmente rassicurati che non intendono toccarli minimamente sarebbe follia quindi questa direzione lo trovarò un po' fuori luogo francamente Alessandro Giudice Giovanni Capuano buongiorno ben ritrovati ciao buongiorno eh parto parto da Alessandro poi vi lascio anche a qualche considerazione di Umberto in sessanta secondi per noi totali asini del mondo economico parlo del sottoscritto eh cosa significa il passaggio del Milan a Redbird cosa può significare per le avversarie del Milan e quindi anche il Napoli il passaggio a Redbird e cosa può significare in termine anche di calcio mercato questo nuovo passaggio di proprietà ma cosa significa diciamo forse più la la l'esito dell'operazione Elliot che è molto importante perché ha dimostrato che si può vincere anche sovvertendo la logica tradizionale consolidata di dover sempre accettare i ricatti dei procuratori o i rinnovi o tortocollo ovviamente si perde il valore del cartellino eh la logica per cui si vince se si comprano i super campioni se si ha la rosa più costosa della Serie A il Milan ha vinto con la quinta rosa del campionato questo diciamo sovverte anche una logica che spesso mi ha scritto che c'è una tendenza storica proprio dimostrata anche dai numeri che però stiamo facendo qualche difficoltà nel seguirti magari sei una zona poco coperta magari se riusciamo un attimo a ripristinare perché sì ok intanto Giovanni ti giro la stessa considerazione come può cambiare il Milan la prossima stagione se può cambiare con questo passaggio di proprietà? Ma guarda io credo che il Milan possa cambiare in meglio nel senso che ha concluso un processo in cui la priorità assoluta era di mettere in equilibrio i conti all'inizio addirittura eh consentire al Milan di restare in piedi perché la situazione era evitata da Elliot era una situazione eh molto complessa da gestire quindi si è chiusa quella della prima fase si è chiusa tra l'altro anche con dei giudati sportivi eh molto soddisfacenti ed entusiasmanti quest'anno perché non era scontato che si potesse arrivare molto in fretta a tornare in Champions League lì tra ad esempio questo percorso è stato più lungo e ed era quasi eh incredibile immaginare che il Milan potesse tornare a a vincere uno scudetto e quindi si apre una una momento diverso si apre una stagione diversa io a me piace pensare a Red Bird più come a dei sviluppatori di un progetto commerciale e sportivo e metto le due cose sullo stesso piano ehm facendo sport i risultati sono un driver ehm necessario perché possa poi funzionare al meglio anche la parte commerciale Milan ha ampi margini di crescita li ha sul campo e li ha al di fuori del campo basta dare un'occhiata ai numeri del fatturante è stato fatto molto ma ci sono degli spazi enormi di crescita ecco io penso eh che il Milan di domani tra l'altro con la permanenza al suo interno di Elio con una quota minoritaria ma significativa eh si è chiamato a una stagione di crescita. Allora intanto eh vi segnalo abbiamo perso il collegamento con Alessandro Giudice stiamo provando a ripristinarlo ma evidentemente in una zona poco coperta speriamo di recuperarlo in tempo per la fine di questo blocco. Intanto Umberto la tua per Giovanni. L'affermazione di Maldini come ti è sembrato? Beh insomma eh io devo dire insomma Maldini ha semplicemente interpretato Paolo Maldini eh va preso così eh è stata la sua grandezza per tutta la sua vita sportiva eh è stata anche la sua grandezza da dirigente secondo me eh ha fatto il bene del Milan in questi stagioni anche con la sua schiettezza, franchezza ai limiti del dell'essere ruvido. Noi dobbiamo sempre ricordarci che Paolo Maldini è andato in tribunale a testimoniarne nella causa tra il Milan e Boban, Boban fuori dal Milan licenziato eh e ha detto la sua senza fare sconti alla proprietà che in quel momento era ed è ancora la sua proprietà. Eh io ti sentivo prima è vero c'è un cambio di un cambio di guida dentro il Milan e tutti devono sapere che è il momento della pazienza eh però è anche vero che la la funzione di Paolo Maldini e la funzione di Ricchi Massara sono funzioni che iniziano a lavorare sui progetti sportivi con mesi a volte con un anno d'anticipo e quindi io credo che lui non abbia torto a ritenere che sia totalmente il rituale che ha un mese dalla scadenza del contratto dice Paolo Maldini magari mente ma io non ho eh il modo di smentirlo non per per non aver firmato il rinnovo ma per non essere nemmeno stato chiamato a fare due chiacchiere su quello che è il giudizio e la pianificazione e questa è una cosa secondo me sulla quale lui non ha torto ma io non credo che Paolo Maldini oggi con quell'intervista di Rompente esca per monetizzare per se stesso perché non ne ha bisogno io credo che lui esca per monetizzare per il Milan e in questo senso lui sta facendo la stessa operazione che ha fatto altre volte rifiutando di entrare nel Milan l'ultima volta con il Milan cinese di Fassone Yongon Lee e che ha fatto anche quando si espose in prima persona sulla questione eratmica eh rivendicando così come Boban il suo ruolo eh poi l'uscita di Boban fu interpretata da Elliot come un'uscita di rottura che meritava il licenziamento e la causa in tribunale quella di Paolo Maldini no eh e quello che è successo dopo ha dimostrato che aveva ragione Paolo Maldini e che in quel caso aveva ragione anche io vediamo adesso che cosa succede ma io non immagino un Milan senza Maldini. Nel prossimo campionato Napoli deve stare attento alle milanesi perché l'Inter prende Mkhitaryan, la Juventus anche se guardiamo un po' più ad ovest sta chiudendo per Pogba e Di Maria il Napoli rischia di restare indietro oppure sono le solite eh in qualche modo le solite speculazioni le solite paure che alla fine arrivano nella piazza di Napoli a fine anno. Io penso che sia un po' presto eh perché noi stiamo ragionando su delle sensazioni noi abbiamo la sensazione un po' tutti non so voi ma insomma che la Juventus non possa permettersi una nuova stagione di transizione e quindi stia andando a cercarsi giocatori pronti, fatti, finiti da mettere in mano un allenatore che è un grande gestore che ho quest'anno ha fatto fatica ma da gestore potrebbe farne meno e quindi noi tutti pensiamo che la Juventus l'anno prossimo sia veramente una candidata per lo scudetto. Il Milan lo è per definizione perché ha vinto questo titolo ma credo che per primi i dirigenti del Milan sapiano che che c'è anche stato un pizzico di casualità in questo scudetto molto meritato. Ci sono alcune circostanze che vanno confermate. Oggi in quell'intervista Maldini usava secondo me un termine molto interessante, importante e giusto cioè questo Milan va consolidato va consolidato nelle sue certezze e poi bisogna investire per migliorarlo. L'Inter noi adesso vediamo il lato A della medaglia e c'è i nomi che vengono accostati alcuni sono molto vicini però aspettiamo di vedere qual è il lato B perché ci sarà anche il lato delle cessioni e sul Napoli vale più o meno la stessa cosa ma vale anche per la Roma, per la Lazio, per l'Atalanta che ringiovanisce. È veramente troppo presto. Voi avete capito che Napoli vedremo ad agosto al via del campionato. Io francamente no. Io so che un anno fa dell'Aurentis ha detto che disegnava tagliare i costi e che tutti erano sul mercato e alla fine il mercato ha restituito a spalletti la rosa praticamente non toccata. Quest'anno non potrà accadere. Ci sono dei giocatori in scadenza che vengono salutati. Ci sono altre situazioni poi però la realtà è che ad esempio o su Pulibaliti arriva un'offerta importante oppure è facile anche che rimanga e il giudizio tecnico sulla squadra è veramente complesso da fare a boccia ancora in movimento. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori Giovanni se era meglio vincere la conference linga arrivando da settimi oppure qualificarsi in champions da terzi con poi lo spauracchio di poter uscire subito al girone. Ci scrive Enzo da Roma eh personalmente a me della conference non frega nulla riguardo invece giallorossi con una proprietà da undici miliardi di dollari annui e le altre top sono preoccupato della loro certa crescita rispetto invece a un programma ribasso del Napoli. Se non ci si attrezza a navigare si finisce tra la settima e l'ottava posizione. Anche qui troppo severi Umberto poi dopo mi dici anche la tua. Giovanni. Ah pensavo avessi chiesto ad Umberto chiedo scusa. No ma guarda senti allora io il dibattito sulla conference league lo trovo veramente stupievole. Eh io penso che si si faccia sport per cercare di vincere. Il resto è roba da da commercialisti quindi è chiaro che un commercialista o al limite l'amministratore delegato di un club ti dice che lui il terzo posto fisso per entrare sempre in Champions League lo vuole. Poi però bisogna sviluppare l'idea di di provare a vincere. Eh a qualunque livello io credo che la Roma e il Napoli facciamo questo paragone eh dei prossimi quindici anni non avranno nessuna possibilità di vincere la Champions League. Hanno 0,001 possibilità su su cento. Eh e penso invece che notti come quelle che hanno vissuto i i tifosi della Roma con l'Olimpico pieno contro il Bodo contro l'Eister la la festa dopo la finale la festa di ieri io credo che siano la ragione per cui si crea eh poi un una storia di un club ehm e quindi io credo che gli altri debbano invidiare profondamente la vittoria della Roma ehm tutti eh poi gli iranisti hanno festeggiato lo scudetto gli interisti della Coppa Italia per carità quest'anno c'è anche qualcun altro che ha avuto questa soddisfazione però debbano invidiarla e debbano ragionare che si gioca per per vincere quello che ti propone il campo in quel momento ed è una lezione che deve valere per tutte le italiane comprese quelle ad esempio che l'Europa League l'hanno a lungo sloppata partendo dai presidenti e non creando l'ambiente per cercare di arrivare il punto siccome la Roma oggi è Giuseppe Murigno dal punto di vista ambientale Giuseppe Murigno è uno che comprende perfettamente l'importanza di vincere e attorno alla Conference League su cui peso ne ripariamo fra qualche anno perché siamo soltanto all'inizio eh attorno a questa cosa qui lui ha costruito una storia bellissima che ha fatto solo il bene della Roma, dei romanisti e della sua società. Giovanni grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi. Umberto, la tua e poi ci fermiamo prima l'edito nuovo. È un argomento spinoso perché eh qui non è un problema di commercialisti o di conti o di bilanci premesso che i soldi servono per fare se lo sta buone. Il problema è che se si pensa che un trofeo minore compensi una stagione negativa basta vincere e è una mentalità. Io non ce l'ho questa mentalità. Per me conta la squadra e la forza che si inseca. Se la squadra fa bene, cioè se la Roma che si è fatto terza in campionato e vinto la conferenza avrei detto chapeau. Grande stagione. La Roma fa sesta. Al massimo avrebbe potuto fare quinta se non avessero qualche punto per distrazione. Ma siamo lì. E non può essere una stagione esaltante. Diciamo che eh è bello tornare a vincere dopo tanti anni. Questo assolutamente ci sta. È bello l'entusiasmo ma proprio perché sei un piccolo club. La Roma che dovrebbe essere un grande club è un piccolo club perché non vince dal 2008. Quando uno è così assetato anche se trova l'acqua sporca nel deserto di una sorgentucola ci si tuffa. Quell'acqua che non berrebbe mai in condizioni normali. È normale. È comprensibile. Ma non si può contrabbandare come ho visto fare a Roma il sindaco quartieri portaci il trofeo in Campidoglio Murigno. Oh. Siamo parlando della conferenza. Ma stiamo scherzando. Ma veramente stiamo vendendo l'ottone per oro. Ma però non solo. Io sono molto più vicino alle posizioni di festa che sta avendo la Roma. Sono sono sincero eh perché ti ripeto è vero che non vincevano da tanto però Napoli e Roma non sono piazze vincenti quindi quello che arriva alla fine si festeggia poi magari si può esagerare o meno però secondo me io non sto vedendo nulla di strano sono sincero in in quello che sta succedendo nella capitale. Detto questo eh ci fermiamo torniamo tra pochissimo periodo nuovo. Si torna a parlare di mercato ma soprattutto si torna dalla coppa. L'ultima è stasera anzi domani sera che è la più bella la più ricca la più famosa ma nettamente la più spettacolare perché domani sera in campo ci saranno Real Madrid e Liverpool. C'è la storia del calcio in Europa. Parliamo di due squadre leggendarie, due club leggendari ovviamente il Real Madrid è più ricco di gloria e il club più titolato d'Europa e al mondo. Il Liverpool ha una sua fascinazione particolare e unica. Strangamenti io ti ferro il Liverpool. Anche se mi dispiace per Carletto Ancelotti ma ho una particolare predilezione per il club per il suo modo di giocare il calcio. È un modo a mio giudizio di coniugare l'atletismo moderno la velocità di esecuzione con la verticalità e senza attichità stucchevoli. Anche Ancelotti non è un giochista troppo e molto di più ma un si dice oggi risultatista cioè uno che le partite le vede, le sa gestire molto bene, le capisce, sa mettere la squadra in campo ma di certo non mira a prendere il pallino in mano e dominare la partita, mira a sfruttare i momenti migliori. La Roma è tornata, si è fatta il giro sull'autobus, Falcao che dice avrei voluto esserci perché lui l'ha persa la coppa, ma quella vera, la coppa dei campioni, ai rigori e lui non volle tirarlo e negli spogliatoi fu attaccato al collo letteralmente nello spogliatoio da alcuni compagni importanti, quindi Agostino di Bartolomei Bonanima. Lui addusse come giustificazione, gli faceva male il piede e che rischiava di sbagliare, ha preferito non calciare, ma un fuori classe se lo deve fare, di nessuna responsabilità. Da quel giorno è chiaro che Falcao gli è rimasta la coppa sul gozzo, ha tolti una coppa, non gli è stata mai data la possibilità di giocarsela più in fondo e quindi forti anche degli grandi del passato, i due uomini simbolo, i due scudetti in epoca moderna della Roma, a Roma hanno fatto festa per due giorni interi. Ci sta per una squadra che è nell'elite del calcio italiano in questi anni è stata la terza perché ricordiamoci sempre che Milano Inter sono tornate solo adesso. È un'anomalia a questo decennio perché la Juve non ha trovato rivali, perché se non sono il Milan e Inter le rivali e diventano Roma e Napoli, vince la Juve. È un assioma, è un teorema per meglio dire. La Juve può perdere gli scudetti solo se divincono l'Inter e il Milan, altrimenti vince. Tranne la felice, il felice biegno per Roma del giubileo duemila 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 uno, dall'ora in poi non ha vinto più nessuno che non siano loro. E questo è un dato di fatto. Ci sarà un motivo per cui da Roma ha vinto tre scudetti. La Lazio due, la Fiorentina due, il Napoli due, Firenze due. Cioè, se tutta la dorsale d'Italia, Roma, cinque scudetti nella capitale, Firenze due, sono sette, Napoli due, sono nove, e se tutto il Triveneto conta il solo scudetto del Verona, e se tutto il resto dell'Italia, isole comprese, c'è un solo scudetto che è quello del Cagliari. Arriviamo a undici scudetti. Vogliamo aggiungere anche quello della Sampdoria? Siamo a dodici, perché quelli del Genova sono di un'epoca preistorica del calcio. Non contano, come non contano quelli del Bologna, che è arrivato all'ultimo scudetto significativo nel sessantaquattro, dopo di chi non ha mai più vinto? C'è quell'anomalo scudetto del Torino di radice dei gemelli del gol, che si è contrapposto al nostro potere di ventino, lo possiamo considerare uno scudetto meridionale per per modalità? Benissimo, nove, dieci, undici, dodici, Verona, Cagliari, Sampdoria, e Torino. Quattro e nove, tredici, e che altro c'è? In cento anni di calcio italiano, che altro c'è? Solo loro, sempre e solo loro. Perché è tutta fuffa quando si citano i scudetti del Bologna d'Antan, del Genova, degli inizi del novecento, la novese, il vado, e non so più chi altro c'è da citare, la Provercelli. Parliamo di calcio serio, calcio contemporaneo, dagli anni sessanta e poi. Ma chi ha vinto? Nessuno. Questi sono gli unici baggiti d'Italia in un monopolio a strisce di tre club, che sono sempre loro. La Juve fa nove anni di seguito, poi dopo chi vince? Inter Milan. L'anno prossimo di vincere la Juve. Mi sa tanto. E ricominciamo la danza. In questa logica, andare a caccia di una Conference Cup, dal punto di vista del marketing, dell'emotività, della fidelizzazione, di tutto quello che si vuole, è cosa buona e giusta. basta ricordarsi però che si festeggia non per il banchetto del re, ma per i resti del banchetto del re, quelli che i nobili lasciano come briciole. E sinceramente, quello non è un banchetto, quella si chiama elemosina. Questo il tuo edito nuovo Umberto informazioni sul traffico. Che riparte per continuare anche, soprattutto, a parlare non solo di calcio e mercato, ma anche del tema che vi abbiamo proposto ad inizio, trasmissione, meglio la Conference League, il settimo posto, oppure meglio la Champions League con il terzo posto e poi lo spauracchio però di poter finire subito fuori ai gironi. Ovviamente tante le risposte che ci stanno arrivando al 380, 127, 2.000 molti. Umberto, alcuni ti stanno accusando di farla finita perché sei il primo che scende a festeggiare la qualificazione per sentire l'inno della Champions. Questo amico non si rispetta, ti dice, non non si firma, ti dice soltanto rispetta la Roma. Che cosa faccio io? Che sei il primo a scendere e festeggiare la qualificazione per sentire l'inno della Champions. Io sono sceso a festeggiare, me ne è fregato proprio, anzi mi sono incazzato, non abbiamo vinto lo scudetto. La gente mi sta accusando che io non ho dato nessuna valutazione positiva all'acquisita Champions. Io ho dato sei e mezzo a spalletti e sei e mezzo a Napoli. Questo amico sta fuori di testa e digli che prima di scrivere si lavasse la bocca. Luca si firmaste. E soprattutto. E soprattutto. È un vigliacco. Soprattutto. Luca Telese, buongiorno, ben ritrovato. Ciao. Luca, si sta. Ma pure tu hai fatto due notti, due giorni di bagordi perché hai vinto questo coppone esagerato. Inchinatevi davanti al profeta. Inchinatevi davanti al profeta. Raccontatevi che si da variati anni una voce profetica si unisce al nostro gacchemiccio e ci illumina con delle anticipazioni su cosa accadrà, degli squarci sul futuro. Luca ma sei nel pieno dei festeggiamenti anche adesso? No, questo è evidentemente un Luca è un Luca poco sobrio. È un Luca che ha bevuto parecchio in questi due giorni. Poco sobrio. Dalle minimalia dei bassi istinti però vi avevo profetizzato la primavera del pelato, vi avevo profetizzato la vendetta di Murigno ostracizzato dal sistema e vindice in Europa. Tutto scritto, tutto detto. Umberto. Tutto scritto, tutto detto. Non dico Alessandro che... Ma io lo so che tu hai previsto che Spalletti sarebbe crollato e calato, che lo scudeletto se lo sognava, lo so che hai previsto che Murigno la coppetta del cavolo l'avrebbe alzata per far fissa al popolo romanista. Eh sì, la coppetta del cavolo, l'Europa si sta inchinando di fronte al nuovo Napoleone! L'Europa tutta. No, ma che coppa avete vinto? La conferenza è capo, quella che la mettete in bacheca si squaglia, è di cartone. Sì, trenta milioni di euro di incassi, la protettiva... Luca, ma detto fra noi, secondo te Spalletti ti sta un po' invidiando, Murigno? Ma il pelato sta rosicà come una ceppola! Umberto, aiutami! Poi perché è proprio rosicone lui, è proprio rosicone, vi ricordate lo scambio di doni con i totti? Lui è rosicone e purtroppo mi dispiace perché quest'anno Napoli ha pagato il prezzo dei suoi difetti fatali. Umberto, e qui ci vuole... No, no, parla serio, dai, insomma, è bella la cosa, lascia stare, lui sui Spalletti si esprime così, ma in fin dei conti chi vuole bene. Il punto è un altro, è vero che Roma ha bisogno di un successo, tanti anni, troppi, senza, pallotta è stato peggio di uno tsunami, però, oh, sta esagerando, eh, hai vinto la conferenza. Ma questi arrivano e vincono una coppa, si freschi, sono fantastici, Murino arriva, inizia un ciclo, piange, si commuove in tv, è stato il numero uno. Senti, ma ha messo, ha messo il peperoncino sotto gli occhi per fare quella sceleggiata che ha fatto? Lui è diabolico. Ma perché voi, ma perché voi di fronte al talento siete come sa ieri di fronte a Mozart? Io vorrei capire perché essendo buoni cultori del calcio non dite scusate, avremmo voluto noi averlo uno come Murigno, un profeta. Io ho visto una partita, che è stata una partitaccia, avete fatto mezzo tiro e tanto catenaccio, un ripatizio, un culo impressionante, pali contro pali, poi dopo avete fatto una festa smodata. Ma quello è calcio quello? Ma ti prego, ma che è calcio? Ma io credo che ci sia stata emozione nel mondo per questo trofeo. Veramente, è una cosa che si è sentita. Lo stupore per l'impresa, la grandezza, la rinnovazione. Ma chi? Allora, ho pensato con Feyenoord, ma ti prego. Luca, magari in quindici partite, in quindici partite Lester e fai. Noi in Lester l'abbiamo sfrantumato, sfrantegato a Napoli. Cioè in Lester ce lo siamo mangiati a colazione, voi vi siete fatti sotto, dai, bello. Ma chi dici? Ma vabbè, mi state provocando, però capisco che sia un vostro modo per metabolizzare il lutto. Quindi la volpe e l'uva, dici tu? La volpe e l'uva? Ma certo, voi in una conferenza, si terremotava Napoli, esplodeva. E' vero, eh? Questo è vero. Questo è verissimo. A Napoli per la vittoria della conferenza è stato qualcosa di pazzesco, no? Perché la fame, è la fame che gli fa sembrare buono un piatto che una sbomba. No, ma poi la conferenza da adesso diventerà ancora più prestigiosa. Grazie a Murigno, dici? Grazie a Murigno? Certo, è il profeta che illumina la strada e mostra il cammino. Senti, profeta, ma Cagliari? Eh, Cagliari è retrocesso. Ma manco un gol a Venezia, contro le sempre in Venezia. E se lo dice un tifoso di quella partita di Venezia è stato uno schifo, proprio, uno schifo. E' mai visto una squadra che perde in casa 4 a 0 in festeggia? Mannaggia, guarda. I puzzoni erano proprio, guarda, una cosa incredibile. Chi sono i puzzoni? Eh? Chi sono i puzzoni? Beh, lo avete capito, è auto-esplicativo. Ah no, a Salerno si chiamano ciaioli, non puzzoni. Sono dicono da soli? No, no, è il loro nome, è la loro... Al punto che sono talmente simpatici che hanno fatto un coro su se stessi. La partita precedente, quella del gol noantesimo, e comunque quello è un pubblico spettacolare, eh, devo dire, ti fa incavolare, però quello è un catino di fuoco quello stadio, ma... povero me. Poi, Luca, si era anche un po' malignato su... su... la distinta dell'Udinese, su Pinzi Junior, poi alla fine è andata come è andata comunque, però qualcuno sul web ha malignato. Beh, mi sembra che poi quello che si è visto abbia dimostrato che la metà delle cose, diciamo noi, sono cazzate. Esatto. Tra le altre cose. Sivevano, il Venezia e della Florsid, le partite, due partite sono scritte, mortaggi loro, altre che scritte. Esatto. Assolutamente. Umberto, sei un'ultima prima di salutare Luca. Ma noi sappiamo che... ma siamo tornati di nuovo alle solite storie. Che noi facciamo la guerra dei poveri, Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio, eccetera, l'alana, eh? Sì. Sì. E Inter, Milan, Inter, Milan e Juventus fanno la battaglia vera? Sì. Milan è destinata a crescere, Inter prende Noglu e Dybala, prende, scusami, Mkhitaryan e Dybala, ha detto niente. La Juve prende Pogba, forse Giorginio e qualcuno altro. Ma Mkhitaryan ne fa uno e ne sbaglia tre, mi sa che prendono un po' un bidone, forse sbaglio. Vediamolo. Ah, altra profezia. Fatemi un jingle di quando faccio le profezie, l'anno prossimo questa la risentiamo. Va benissimo. Luca, prendo appunti, ti leggo giusto giusto volo l'ultimo. Il Napoli con Murigno in panchina avrebbe vinto lo Scudetto, la sua presenza avrebbe compattato l'ambiente ed aiutato il gruppo squadra ad acquisire la metà vincente. Giancarlo da Roma ci scrive. Sei d'accordo Luca? Sicuro. È proprio questo, sono sicuro. Cioè Mou al Napoli avrebbe vinto lo Scudetto con cinque punti di vantaggio su Milan e Inter? Magari tre però avrebbe vinto perché Murigno quello che può cavare dalle rape lo cava. Perfetto. Umberto, il tuo saluto per Luca. E l'anno prossimo la Roma entra. La Roma entra in Europa Ligra l'anno prossimo. Non lo so. È presto per dirlo, io sono ancora al lutto. Tu sei ancora al lutto. Ecco, mi sei. Va bene. Luca, grazie mille e buoni festeggiamenti ancora. Grazie mille. Ah, Luca. Come l'ha definito? Come l'ha definito? A Murigno? Il profeta. Il profeta. Il profeta. Il profeta. Torniamo tra pochissimo per parlare soprattutto di Salernitano. Che riparte da Salerno e dalla Salernitana perché se ormai la permanenza di Sabatini è cosa certa manca soltanto l'ufficialità del nuovo accordo, quello con Nicola invece è tutt'altro che definito. Oggi è tesa la risposta del tecnico Granata proprio al club del presidente Gliervolino. Umberto, resta non resta Nicola? Cosa gli consigli? Cosa gli consiglio? Andarsene sei mesi in vacanza, poi lo chiamano per la salvezza e lui vince. Se invece parte all'inizio è capace dopo sei mesi lo cacciano. Eh la sua il suo destino è far bene. Purtroppo è vero. Con l'Udinese è partito. Vedi Ballardini quest'anno esonerato alla guida del Genoa. È vero, è vero, è vero. Forse entrato in corso magari l'avrebbe salvato. Cioè ci sono degli specialisti della salvezza che sono bravi in quello. Ballardini e Nicola sono due garanzie assolute. Ma quando partono all'inizio stagione vengono inesorabilmente esonerati. È un mistero assurdo. È ovviamente una casualità immagino. Ma vale a capire chi parte con questi allenatori non va mai bene. Però quando li prendi per salvarti questi li fanno i miracoli. È vero. Assolutamente. Tommaso D'Angelo che fa Nicola? Resta non resta direttore? Buongiorno. Tenetelo sotto contratto e chiamatelo a marzo. No, resta, resta Nicola. Stanno già lavorando. Perché si è preso il tempo? Perché si è preso il tempo? Tommaso, perché si è preso il tempo? Perché non ha detto subito sì? Ma credo che faccia parte un po' del personaggio. Non credo che abbia qualcosa di meglio tra le mani, detto onestamente tra di noi, perché come su giustamente ricordavi, non si è mai capito perché dopo aver compiuto comunque delle imprese, con l'ultima squadra. Eh quindi Sabatini so che la vuole confermare assolutamente, molto passava insomma per questa nuova coppia per ripartire, quindi non vedo assolutamente problemi all'orizzonte. Problemi all'orizzonte invece potrebbero esserci per gli altri riscatti, quello di Michael, quello di Verdi, quello di Bonazzoli, c'è tanti calciatori da dover confermare poi insieme a Granata. A Michael, non vorrei sbagliarmi, ma c'avevo una clausola che in caso di Salvetto non è stato riscattato. Penso che Bonazzoli ha già stato l'Azio, lei ha già stato l'Azio. Bonazzoli chiede che sia una perdita abbastanza importante per la Salernitana. Certo, c'è l'ipotesi affascinante che vuole Iervovino, che in questo ha scavalcato anche Sabatini, cioè quella di Cavani. È una trattativa, diciamo, che sta portando avanti direttamente il Presidente, anche perché riuscirebbe forse al budget destinato al direttore sportivo, vuol dire, andasse in posto sarebbe il regalo di Iervolino agli forse della Salernitana. Ci riuscirà? Non ci riuscirà? Non lo so, io vedo che Cavani, quando meno ci pensi, sarà valutando anche altri posti, vuole ricevere ancora in Coppa, quindi non è neanche una cosa facile. però c'è il fatto che Iervolino abbia pensato a Cavani, è un buon segno per il Consiglio della Salernitana. Tra le altre cose, al 380-127-2000 ci scrive Francesco Umberto, chiedete a Chiarello quale sia l'albergo più vicino alla Arecchi? No, no, Cavani se viene va a Hotel Baia, a Vietri, dove scendono sempre le squadre, quindi già mi sono attrettato. Ovviamente era scherzoso il messaggio. La Salernitana mi aspettasse la Hotel Baia, siamo lì per attendere Cavani che non ci sarà. Direttore, ma è possibile, Tommaso, è possibile, cioè Cavani in Granata è qualcosa di possibile o sono i sogni di fine stagione, ancora l'ebbrezza della salvezza, eccetera, eccetera? Cioè, è qualcosa di concreto, qualcosa che si può inseguire? Devo dire che sotto questo aspetto Iervolino non è che uno che parla a caso, quindi se ha parlato apertamente di Cavani, il pensiero ce l'ha fatto, insomma so che qualche suo emissario sta muovendo per tentare di convincere il giocatore. Poi dipenderà appunto dal calciatore. La volontà della Salernitana c'è tutto. Iervolino ha detto, non c'è bisogno dell'albergo, gli regalo una vita da Marte, quindi voglio dire, non c'è neanche bisogno. Ma anche di Beric, secondo me, poi lo scorso anno in quella situazione sembrava un sogno impossibile, infatti è andata come è andata, è un altro discorso. Però anche di Beric sembrava un sogno impossibile. Ma rimani? Io leggo che rimane, ma che rimane? Sì, c'è un rinnovo automatico in caso di salvezza, giusto? C'è un rinnovo automatico in caso di salvezza perché poi questi quando fanno i contratti, non perdono. Sono delle vecchie volpi, eh? Non si dimentica. Ma io credo che... Non siete per l'EPT di Salerno? Facciamo con gli orienti a capi, no? Che faceva la guida turistica. Voi lo usate l'EPT di Salerno, che fa? Beh, andeto che c'è brava anche come presto. Io vedo che abbia più problemi di aprirlo con gli annicelli che la salvezana con i bellini. Umberto, io penso che ho i giochi facili perché nessuno può avere più problemi di me con gli annicelli. Eh, lo so. È una provocazione con l'uomo. Eh, sì, ma almeno mi hai vendicato, lo hai pistato tutta la stagione. Ma no, ci dissociamo, eh, ci dissociamo, ci dissociamo. Loro fanno un programma insieme. Non sai, Alessandro, che loro fanno un programma insieme a Salerno. Dove Tommaso puntualmente gli è dato di tutti i colori. E questo direttore volano scrivanie. No, perché non ci sono scrivanie, ma ci è andato vicino gli annicelli, e spesso nelle ultime puntate, che è andato molto vicino, insomma. Viene vicchiato comunque sistematicamente, cosa che non fa chiarirlo, perché lascia a me questo compito, anche piacevole, per la verità, di vicchiare gli annicelli, insomma. Senti, ma ora, sai, lui, come al solito, ha provocato, no? Dai anche tu questa risposta. Ma è meglio fare terzi e uscire il giro di Champions quasi sicuramente, o è meglio fare settimi e vincere la Conference League? Allora, gli annicelli non ha capito una cosa fondamentale, che in Ambrose stanno, ha perso l'ospedetto. Voglio dire, il problema non è fare la terza, la Champions League o la settima, vabbè, è una coppa. che ricorda un po' la Mitropa Cup, però voglio dire, è comunque una coppa. Ma io credo che il dramma del Napoli, tra virgolette, se vuole di aver perso l'ospedetto, il dato fondamentale è questo qui. Il Napoli non poteva perderlo, perché è più forte del Milan, perché è un gioco migliore del Milan, ma lo ha perso, incredibilmente lo ha perso e quindi voglio dire, io penso che il ragionamento bisogna farlo su questo, no? Su queste battute da social, che poi gli amicelli gli piacciono, perché sai, la gente, eh, un po' masochistro, si scarpia contro lui, eccetera. Io credo che il ragionamento sei che vado fatto su questo, perché il Napoli è perso l'ospedetto, non perché abbia fatto terzo e la Roma abbia vinto, abbia vinto la Coppa, insomma. Tra altre, tra le varie risposte che ci stanno arrivando al 380, 127, 2000, il punto non è meglio arrivare terzi o settimi, il punto è che se giocassimo l'Europa Liga o la Conference, cosa non impossibile per la nostra storia, dovremmo fare di tutto per vincerle. Quello forse è il peccato originale del Napoli, magari non quest'anno che hai pescato il Barcellona, tra l'altro anche in un grande momento di forma, però magari quando eri lì... Non è così. Dici di no? E no, perché tu hai pescato il Barcellona perché hai fatto un pessimo girone, che dovevi vincere a mani basse e sei stato capace di fare eseguro. Questo sì, questo sì, questo è vero, assolutamente, assolutamente. Però è anche vero che quando il Napoli ha avuto la possibilità, ha sempre snobbato la competizione europea, anche voi sapete il successo, lo ricorderete sicuramente meglio di me, snobbando... L'anno dei 91 punti. Bravo, quindi voglio dire, io penso che è una squadra che è impegnata su più fronti, anche se ha la possibilità di vincere all'Europa l'Icro, che lo debba fare. E questo voglio dire, la mentalità di una grande squadra. Anche perché mi faceva notare il collega Giovanni Annunziata che con la vittoria della Conference League la Roma è balzata all'undicesimo posto del ranking UEFA, quindi conta anche l'Italia ha superato la Germania e il ranking UEFA, ci sono cose che comunque un po' più accessorie, ma comunque sono fondamentali anche per certi equilibri. Direttore, ci avviamo verso i saluti, però non posso non chiederle un voto alla stagione della Salernitana. Ma il voto alla stagione Salernitana è chiaro che si conferisce con la salvezza, quindi il voto è dieci, perché... Anche perché è storica, ormai la giornata non ha fatto due anni di leggo. Esatto, è stato un miracolo a Salerno, indubbiamente l'ha preso come questo, al di là di come è capitato, la sconfitta colubinese, il pareggio voglio dire, al di là di tutto, se facciamo un'analisi è una cosa diversa, però come risultato finale è chiaro di un dieci, perché è la prima volta, come diciamo da Umberto, che nella sua storia, la Salernitana farà due campionati di Serie A consecutive e soprattutto questa volta avrà la possibilità di organizzarsi, cosa che non è successa la volta scusa. Umberto, il tuo saluto per Tommaso. Ma davvero Iervolino vuole portare la Salernitana nella parte di sinistra della classifica, questa ambizione? Diciamo in un piano triennale, l'idea di Iervolino, di voglio dire, di fare dei campionati tranquilli, voglio dire, di non ripetere più l'esperienza di quest'anno, sta lavorando secondo me su un altro piano che è molto importante, cioè quello delle strutture, quindi voglio dire gestione diretta della RICI e voglio dire il vecchiamento della vecchia idea di stadio, quindi realizzare anche una serie di iniziative e soprattutto la creazione di un centro sportivo o a Salerno o nelle vicinanze di Salerno una specie di Salernello, la vecchia idea di Alipeste eccetera, per dare ovviamente un forte impulso al settore giovanile, quindi sta creando le tasse per una per una Salerno di Salerno più forte. Ma il vestuti, il vecchio vestuti, niente? Non ho capito? Il vecchio vestuti da valorizzare, rimodernare, utilizzare? Senti, ma con me sfondo è una porta aperta. Per quelli che sono i progetti di Iervolino, io mi auguro che voglio però non credo che in questo momento il vestuti sia una priorità. Mi dispiace molto, non è una battaglia che conduco da anni eccetera per il recupero del vestuti, però credo che ovviamente lì un centro per i giovani non lo puoi inserire, la giornata ha bisogno di campi per l'allenamento. Cioè, sembra bene almeno un'altra la salinità alla settimana fare allenare la salinità del vestuti. Sono anche i giochi. Potrebbe essere anche il campo dove gioca la primavera, potrebbe essere il campo dell'allenamento del giovedì della sanità. Insomma, la valorizzazione del vestuti potrebbe essere un'opzione in più ed è centrale, tra l'altro in piena Salerno, proprio centro. Quindi anche per i giovani facilmente raggiungibile. Staremo a vedere. Avvicinerebbe i tifosi. Io penso che il vestuti e toccavo il campo del paradiso sono due realtà storiche, piene di storia, che sarebbero bellissime se recuperate dai club a cui dovrebbero fare i fattimenti. Assolutamente. Io penso che sarebbe un progetto fantastico, ma a Napoli sul paradiso siamo sempre all'anno zero. Il vestuti potrebbe essere già più fatica. Direttore, grazie mille davvero, buon lavoro. Grazie a voi, grazie, ciao Alberto. Ciao Tommaso. Grazie mille a Tommaso D'Angelo. Dino Vanganiello, buongiorno, ben ritrovato. Eccomi qua, eccomi qua ragazzi, ciao, oggi ci sono io, non so se vi dispiace questa cosa. No, è sempre buona notizia, tutto quando Pietro De Concilis non charla nella corsa, quindi sempre buona notizia. Chiaramente lo salutiamo, con cose personali, niente di preoccupante, cose sue, quindi tornerà a brevissimo, ma oggi mi dovranno sopportare da solo per l'oretta che passeremo insieme. Una retta che però sarà contrassegnata dallo sviluppo di temi importanti, perché chiaramente noi abbiamo usato la metafora di un Avellino che era fino ai giorni scorsi sul ponte, per passare da una sponda all'altra del fiume, lasciandosi alle spalle la scorsa stagione e cominciando poi quindi mettendo il piedino dall'altra parte la nuova stagione. Questo piedino l'ha messo con l'arrivo di Roberto Taurino e adesso si crea la problematica legata alla gestione della Rosa, la scelta dei calciatori che restano, quelli che si potrebbero prendere. Che ruota vive Dio rispetto a quello che è successo all'inizio della scorsa stagione intorno alla definizione del modulo di riferimento. Ad ora, dato che si parte da difesa a tre, ci sono un paio di varianti, due o tre a dire il vero, e allora ragioneremo con ovviamente ospiti importanti che potranno sviluppare insieme a noi questo tema, appunto il discorso delle scelte e della legate alla tattica. Ma non solo, perché avremo un altro ospite molto importante, si tratta di Alberto Iacovacci, perché sicuramente lo saprete anche voi che la coppa alzata ieri dalla Roma, insieme a tutte le altre coppie nazionali ed europee, sono made in Irpinia. Certo. E allora, dato che c'è il massimo esponente, appunto Alberto Iacovacci della Iacovacci, non solo gli faremo complimenti per tutto ciò, però lui è stato anche coproprietario dell'Avellino all'epoca di Rastelli, per capirci l'annata vincente in Lega Pro, ed allora magari ci potrà dire qualcosina, perché anche allora era un allenatore rampante, Massimo Rastelli veniva dal Porto Gruaro, che può essere emologabile alla Virtus Francavilla di Taurino, insomma, un po' di collegamenti per ragionare su un po' di cose insieme ai nostri amici, tra poco, al pomeriggio supereroi. Allora, il menu è ben stabilito, grazie mille a Dino Manganiello, noi per quanto ci riguarda andiamo avanti con lo speciale Napoli di punto nuovo sport show, ufficiale intanto il rinnovo di Quangisus, poi parleremo di tanta primavera, di tanto mercato, tutto questo, tra un paio di minuti. Che riparte quando sono le quattordici e zero tre con Alessandro Montano, Giovanni Annunziata, Umberto Chiariello, terza ufficialità nel giro di ventiquattro ore per il Napoli, dopo quella relativa al riscatto di Anguissa e quella relativa al arrivo di Olivera, arriva anche l'ufficialità del rinnovo di Quangisus. Umberto, tu ieri lo citavi nel tuo edito Napoli, della Vrentis, ti ha dato ascolto, insomma, calciatore che quest'anno si è dimostrato il vero e proprio vice colibali. Eh sì, ha preso il suo posto, è un mancino, è un centrale di sinistra, ha fatto molto bene, ovviamente nessuno nessuno immaginava o potesse immaginare che il signor Quangisus riserva di Fazio, riserva della riserva, della riserva, perché alla Roma c'era Cumbulla riserva di Zitti Tolari, Fazio riserva di Cumbulla e Quangisus riserva di Fazio e di Cumbulla e a Roma stanno uscendo pazzi che noi con le riserve della Roma e le riserve delle riserve, cioè Quangisus e Mario Lui, abbiamo la miglior difesa del campionato. Eh beh. Ti vanno le cose nella vita. Cioè dire che però Fazio invece a Salerno non aveva cominciato benissimo, eh? Cioè abbiamo avuto un po' genese, è stato, cioè, è scarso, molto agonista, ma scarso, ha fatto più o meno qualcosa per sfidare il campionato, indubbiamente, ha dato il suo contributo, ma fondamentalmente scarso. Fondamentalmente non è uno dei migliori difensori al mondo, mettiamola così. Noi tra un po' dovremmo avere già pronti al telefono i nostri ospiti perché apriremo un piccolo inciso su quello che è anche il Napoli Primavera che ieri ha sventato il pericolo retrocessione col play-out vinto, insomma, eh tante piccole gioie in casa Napoli che ha allontanato un un qualcosa che sarebbe stato anche un po' difficile da dover digerire. Ne parliamo e d'obbligo soprattutto quando si parla di Primavera con il collega del Corriere Mezzogiorno Ciro Troise. Ciao Ciro. Buongiorno a voi. Eh Ciro, trenta secondi per i pochi che ancora non hanno ben capito cosa sia successo ieri in casa Napoli Primavera. No, vabbè, la Primavera ha conquistato la permanente del campionato Primavera 1 che sarebbe la serie A della della categoria e vincendo il play-out di ritorno 2-0 contro il Genoa all'andata Genova era fin 2-2, play-out in cui il Napoli era piombato perché ha chiuso al quart'ultimo posto la regola season e infatti ha giocato il ritorno in casa perché era medio classificato del Genoa che ha chiuso al terzo ultimo posto. Dovremmo avere già pronto, aspetto un cenno di Giovanni, ok, perfetto. Anche il nostro secondo ospite Mimma Ambrosino, padre di Giuseppe, come stava? Eccoci. Buon voi di avermi invitato. Mimma, possiamo darci del tuo, facciamo anche in redazione col collega Giovanni Annunziata, mi permetto, semplicemente per chiederti come sta Giuseppe, risultato importante, stagione molto positiva per lui, è stato il faro della Primavera del Napoli, è stato anche vicinissimo all'esordio con i grandi, se ci dai un po' anche il bilancio, un po' delle tue sensazioni sulla stagione. Ok, senti, eh, vi ringrazio, ti ringrazio per questa domanda, perché proprio, era proprio questa cosa che volevo dire, lo voglio dire pubblicamente, io, io con lui sono sempre stato molto duro per tutto il campionato, prevengo sempre il massimo, lo tengo sempre, diciamo, sulla corda, ma ora nel campionato è finito, è finito con una bella salvezza, un'ottimo, un'ottima stagione da parte sua, quindi voglio dire pubblicamente che sono veramente molto orgoglioso di lui, un ragazzo d'oro che mi ha reso felicissimo quest'anno, mi mi ha riempito proprio il cuore di orgoglio, lo solo ho seguito tutte le trasferte, insomma mi sono divertito tantissimo, ha reso felice me, la mamma, sorella, tutta la famiglia, un poco pure tutta l'isola e lo volevo ringraziare pubblicamente, speriamo che ora continui così a breve credo ci sia la nazionale e vedremo cosa succede. Umberto, la tua per Mimma Ambrosì. Ma io voglio capire qual è il futuro c'ha questo ragazzo che si è segnalato come uno degli attaccanti più forti del campionato minabera, è stato premiato come il migliore, capocattoniere, contribuito alla salvezza del Napoli e ora deve giocare assolutamente. Il Napoli che intende fare? Domanda in B? Domanda compresso o a che parte? Purtroppo credo che queste cose forse le potete sapere più voi che io, anche se sono... Ma avete mai parlato con la società in questi ultimi tempi? Ma lui c'ha un gruppo di procuratori, con lui per i tutti vicino ci sta Alessandro che credo parlino tutti i giorni, lo seguono tantissimo a Giuseppe e sicuramente staranno pianificando cosa fare, quale deve essere la scelta migliore per il ragazzo. Io noi siamo a disposizione cioè per Napoli e spero che come ha detto anche tu che l'anno prossimo giochi, non lo dove ma che almeno giochi e che continui ad impegnarsi e a fare bene. Purtroppo lui nel destino c'è una sola cosa, il gol. Fin quanto farà gol, la sua strada sarà sempre più in discesa. Ciro, la tua per Mimmo. No, si è un po' dispiaciuto che magari nell'ultima giornata poteva fare il debutto in Serie A, cioè vivere questa emozione. Eh sì, perché dico la verità, un po' sono dispiaciuto perché poi perché poi ho visto che in tutta Italia hanno esordito tutti, perfino in 2006, in 2005, 2004, in Venezia, nell'Emboli Baldanzi, insomma, hanno esordito tantissime e quindi pensavo e speravo soprattutto che potesse avere questo premio anche lui, però la società il Napoli avrà fatto le sue valutazioni, non mi preoccupo di queste cose, avrà sicuramente altre occasioni. Lui deve continuare a lavorare e impegnarsi sicuramente il futuro è, diciamo, della sua, vai dalla sua, quindi sono dispiaciuto, logicamente è normale che mi avrebbe fatto piacere, però non fa niente, va bene così. Ieri ieri di nuovo è entrato al secondo tempo, anche ieri mi aspettavo che giocassi, però nessun problema, il mister fa le sue scelte, per fortuna che poi alla fine il verdetto lo da sempre il campo, quindi siamo felici per Giuseppe. Mimmo, ma lo vedremo a Giuseppe, a Di Maro, a Casteldisangro? Io non lo so, dico la verità, di preciso non lo so neanche questo. Vediamo il Napoli che vuole fare, leggo sui giornali, sui giornali, sui social pure, questo Bari, tutti lo vorrebbero a Bari, ma non lo so se sono cose vere, oppure sono cose così scritte, un poco solo per fare notizia. Non lo so, vi dico la verità, io spero che vada, la mia speranza, dico la verità, è quella che lui va, ritiro con Napoli, così inizia a confrontarsi un poco con quelli più tosti, più grandi, poi non lo so se rimane con la prima squadra, ma non credo, perché deve fare il suo percorso, la sua cavetta, però sarebbe già una bella cosa se lui potesse fare almeno ritiro qualche amichevole, non lo so, con Napoli dei Grandi. Così potrebbe rimare anche quei difetti che che qualcuno ha detto che questo ragazzo ha i difetti, è logico che a 18 anni si hanno difetti, per fortuna che ce li ha, quindi andando in ritiro potrebbe migliorare questi difetti che ha. Restando su questo tema mi sposto su Ciro, decisivo tutta la stagione sicuramente, nei play-out d'andata, di ritorno, ma Colisaco potrebbe avere un futuro eventualmente in prima squadra? Sinceramente no, nel senso che per me è un giocatore che in primavera fa la differenza perché tre volte gli altri, ma in un contesto di prima squadra Napoli devi essere più rapido, è un giocatore, è un 2002, cioè ha già 20 anni, per me è un giocatore che per esempio tra C e B può fare una bella carriera, questa è la dimensione che immagino per lui, dovrebbe avere un altro passo per giocare in Serie A e questo è tutto nel Napoli che è una squadra che fa la Champions League l'anno prossimo. Assolutamente. Umberto, la tua per Mimman Brasino. Io vi auguro di trovare un maestro come Zeman, mi auguro di trovare per lui un maestro come Zeman e come un po' Ciro Immobile Lorenzo Insigne, uno che sa lavorare con i giovani e che gli possa creare un futuro perché tutto deriva dall'anno prossimo, se lui trova una squadra che crede in lui con un maestro di quel tipo nulla gli è precluso e altrimenti il rischio è che poi debba faticare a emergere perché tutto sta allo start up in un momento più complicato, un attelito. Non riesce a trovare chi crede in lui o un Fabio Pecchia la Cremonese per dire cose di questo livello. Sarebbe anche perché per le punte è più difficile emergere perché vogliono sempre l'uomo d'esperienza, in B come vedi ancora i coda e sono i soliti noti che poi portano le squadre al successo e sui giovani ci si punta molto poco. Ecco perché avendo l'Italia bisogno di attaccanti, mai come adesso c'è una penuria totale di attaccanti buoni, dobbiamo molto sperare che il Napoli possa ritrovarsi nel giro di un paio di anni un attaccante da prima squadra. volevo rispondere, volevo ringraziare il direttore per quello che ha detto perché concordo con lui, avere Zeeman come maestro per un attaccante sarebbe il massimo, glielo ha forse anche se con Zeeman bisogna sudare tantissimo ma veramente sarebbe una cosa molto molto importante per la sua crescita. Eh Mimmo per salutarci. Non rimarrà a Foggia. Eh Zeeman saluto il Foggia. Non rimarrà a Foggia ma il percorso di Giuseppe immagino la speranza di un padre di sia quella di vedere il proprio figlio fare un cammino che è stato eh quello di Lorenzo Insigne che ha lasciato quest'anno il Napoli che ha culminato il sogno di partire dai giovanissimi e vestire anche la fascia di capitano della squadra della propria città. Eh si sono sentiti, hanno rapporto, eh c'è stato qualche messaggio con con Lorenzo, con qualcun altro della prima squadra, con lo stesso Spalletti? Eh purtroppo anche di questo non vi so rispondere perché ma non credo altrimenti Giuseppe forse me l'avrebbe detto ma lui è un poco chiuso. E' molto probabilmente lui faccia il ritiro con la prima squadra eh. E' molto probabile che il tiro a di mano lo venga a fare, lo vedremo lì a di mano. Speriamo. Mimmo, grazie mille davvero, in bocca al lupo per tutto. Ui grazie a voi sempre, buona giornata, un saluto a tutti. E in bocca al lupo anche al ragazzo. Ciro, ti tratteniamo altri cinque minuti perché eh devo chiederti di Gaetano, stanno arrivando alcune voci che lo vedrebbero anche in ottica salernitana in prestito, ti risulta qualcosa? Sinceramente no. C'è parlato con Gervolino all'evento dei 130 anni del mattino, scherzando sulla lista di Sabatini mi aveva detto che non c'era nessuno del Napoli. Poi figura di il calcio è bugia, quindi. Certo. Non è che è oro colato quello che ha detto anche che Cavani era un sogno e provano a realizzare e Sabatini l'ha smontato eh stamattina in maniera molto giara. Però ehm è ancora presto. Sinceramente Gaetano ha finito il ritostaggio con la nazionale maggiore. Da quanto mi risulta domenica dovrebbe andare con l'under ventuno. Quindi ancora deve finire praticamente l'annata. Penso che io non ci sono dubbi. Andrà il ritiro e dovrà poi scegliere il Napoli cosa fare in base alle votazioni di Spalletti, alle uscite degli altri eventuali. Quindi è presto per capire eh cosa succederà su eh su Gianluca Gaetano. Anche la questione cremonese di cui si parlava senza Pezzia nel caso in cui il Napoli decida di mandarlo a giocare un'altra volta si fa più complicata perché un contro la cremonese con Pezzia che dovrebbe andare a Parma un altro la cremonese senza Pezzia. E' vero assolutamente. Umberto. Innanzitutto Parma è stato sempre una società molto vicina al Napoli in passato da padre padrone all'epoca tanzi. Venivano a fare la spesa a Napoli e ci davano i bidoni. Poi noi chiedemmo Paolo Cannavaro a parte i Fabio c'è. Adesso negli ultimi anni anni pure c'è stato un rapporto molto stretto col Parma. Potrebbe essere questo un asse privilegiato sì con Fabio Pecchia che va lì eh potrebbe addirittura rafforzarsi questo asse e su questo asse potrebbero viaggiare parecchi ragazzi di Napoli che potrebbero trovare eh compiuta crescita in eh con un con uno come Pecchia che ha vinto un campionato con i giovani. Ha smentito ogni luogo comune, tutti italiani, giovani, a basso prezzo, l'ha vinto. Quindi potrebbe essere lui il eh o per meglio dire non Zeman per come gioca eccetera ma il nuovo Zeman per lo sviluppo dei giovani. Ciro. Sì sì potrebbe non crede sinceramente mi auguro che Gaetano io mi auguro che rimanga a Napoli nella misura in cui ci deve essere lo spazio per giocare a Napoli. Sì no infatti. Se dovesse andare via mi auguro in A non in B cioè se no ci rimane sempre lì sostanzialmente eh quindi però per gli altri per altri. Io parlavo degli altri non Chetano parlavo di Vergara che ne so di altri Idiasac o qualcun altro insomma. Sì per altri ragazzi può essere sicuramente la 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 situazione ideale e da quando mi risulta su sui Dasiac c'è già uno scontro tra società e procuratore perché il Napoli ha fatto filtrare un po' il desiderio di farci fare il terzo e invece eh Dasiac ha già portato tre proposte di Serie A polacca pronte a prenderle in prestito facendo capire che non ha alcuna intenzione di rimanere a a guardare le cinquantina di partite dalla banchina come fa il terzo a Napoli. Staremo a vedere staremo a vedere che tipo di futuro attenderanno i tanti ragazzi del Napoli. Ciro grazie mille alla prossima. Grazie a voi. Grazie mille a Ciro Troise tra pochissimo per parlare di Bernardeschi al Napoli tra pochissimo. Uno dei nomi che sta raccogliendo maggior successo sulle prime pagine dei quotidiani nazionali quando si parla di mercato e quando si parla di Napoli è quello di Federico Bernardeschi. Ormai in uscita la Juventus eh non verrà rinnovato il suo contratto con i bianconeri e dopo cinque anni ha bisogno di una nuova squadra da cui ripartire. Il Napoli che ci aveva già pensato nell'affare Milik un paio di stagioni fa c'era stato un possibile inserimento come contropartita ci starebbe facendo più di un pensierino. Adesso le cifre sono però un po' proibitive perché quattro cinque milioni di euro che chiede il ragazzo per almeno quattro stagioni sono cifre e numeri soprattutto che il Napoli non intende spendere per un calciatore comunque classe mille novecento novantaquattro e quindi non più nel pieno della propria eh del proprio miglioramento tecnico mettiamola mettiamola così vedo annunziata ridere perché siamo due novantacinque ci fa veramente fatica a parlare di ragazzi non più ragazzi non più ragazzi. Sì perché io vi dico che ogni volta Alessandro si sente ancora giovanissimo. Un diciottenne. Un diciottenne. Un diciottenne che deve emergere. Mirko di Natale tutto Juve eccoci buongiorno. Ciao ragazzi ciao ragazzi buongiorno cosa dovrei dire io classe novantadue allora cosa devo dire. Mirko come stanno le cose non solo sul piano Bernardeschi ma anche su quello che può essere il piano di uscita della Juventus il Napoli potrebbe cogliere qualche occasione magari dai parametri zero che si stanno liberando lì? Ma eh in questo momento sono soltanto due parametri zero confermati che non faranno più parte della rosa della Juventus l'anno prossimo ci sono Paolo Di Vada appunto Federico Bernardeschi su Federico Bernardeschi so che è un'ipotesi un'opportunità per il Napoli però onestamente vedo difficile un po' come eh dicevate poc'anzi vedo difficile che il Napoli possa ingaggiare un giocatore con quello stipendio anche perché Federico per quanto riguarda la Juventus ci sono stati mesi e mesi di contatti con col suo agente che ricordiamo l'è cambiato non è più minorario la ma Federico Pastorello e Federico Bernardeschi non si è mai discostato dalla richiesta che comunque era quella che percepiva ha percepito percepirà fino al trenta giugno del duemilamenti due ovvero quattro milioni e mezzo di bonus con la Juventus quindi si dovrebbe dimezzare penso lo stipendio e portava almeno due e mezzo no poi non conosco bene nel dettaglio quali potrebbero essere le condizioni economiche che posso offrire il Napoli però non ce lo vedo neanche io a quattro e mezzo Umberto non ce lo vediamo a quattro e mezzo Bernardeschi si parla tanto di dimensionamento poi un contratto del genere sarebbe completamente fuori parametro ma se il Napoli proprio impazzisce o della Lentis che impazzisce arriva a tre e mezzo ma io penso a tre però Bernardeschi deve anche dimensionarsi non viene da un permanenza di Juventina di altissimo profilo eh ha fatto spesso la riserva non ha dato un gran che alla squadra di Juventina è un giocatore secondo me molto valido di buon affidamento però sinceramente è un giocatore che è stato tagliato e non e non ha dato il meglio di sé in questi anni quindi ora arriva a ventott'anni deve anche dimensionarsi a meno che non non trovi per strada una mega offerta potrebbe anche pensare a una nuova sfida perché se c'è una cosa che a me fa imbufalire dei calciatori è che guardano solo verso l'alto mai verso il basso c'è un calciatore dovrebbe avere anche contezza di dire io ho fatto male eh devo scendere di livello economico se ho fatto bene merito di più invece loro vogliono solo di più mai di meno e questa flessibile inflessibilità verso il basso che la trovo inaccettabile in un libero mercato. Mirko. Ma sono d'accordo con Umberto sostanzialmente Federico Bernardeschi viene da anni in cui a parte il primo e a parte metà anno della seconda stagione con la Juventus dove vi ricorderete tutti no con la partita buonissima contro l'Atletico Madrid è stato spesso in calo ma non tanto per un problema di tecnica cioè non è che era stato valutato male dagli adetti ai lavori anche perché Bernardeschi nel duemilie e ciascette quando lo prese la Juve era considerato come uno dei futuri numeri dieci della nazionale quindi non parlavamo di un giocatore scarso però ci sono state tante tante problematiche a livello mentale il ragazzo si è un po' perso a livello mentale e adesso dovrebbe giustamente come diceva primo Umberto fare un passo indietro e trovare una nuova soluzione che possa essere quella che magari lo possa in un certo senso rilanciare io so del Napoli sapevo anche della Lazio che comunque la Lazio oltre un certo stipendio non può andare e quindi anche a lui potrebbe fare sì un passo indietro e cercare una piazza dove comunque possa dargli figura cioè quella che è staremo a vedere un po' quale sarà il futuro di Bernardeschi sul quale però non c'è soltanto il Napoli Mirko eh perché anche la Roma aveva chiesto informazioni ti chiedo anche l'Inter di Beppe Marotta? Si era informata un po' come si era informata su tutti i parametri zero della Juventus ma non ha mai affondato aveva chiesto informazioni anche per Quadrado ad esempio però sembravano più manovri di disturbo che reali interessamenti quelli dell'Inter quindi ad oggi facendo un po' il gioco delle percentuali? Ma io penso il Napoli penso alla Lazio penso comunque una squadra in Italia che abbia bisogno di di un esterno in quel ruolo si era parlato anche della Fiorentina ma hanno smentito quindi eh io penso queste due squadre essenzialmente perché a Sarri piace è un giocatore che quando era la Juventus ha utilizzato in ogni dove lo ha praticamente fatto giocare ovunque gli ha dato fiducia è stato forse l'allenatore in questi anni che più ha dato fiducia a Sarri eh scusate a Bernardeschi oltre a Allegri il proprio momento tale quindi non so io penso il Napoli poi voi ne sapete ovviamente più di me per quanto riguarda la squadra partenopea ma non so se possa arrivare a quelle cifre perché Bernardeschi comunque io penso che quella falsa riga voglia almeno tre tre e mezzo di stipendio. Insomma cifre che in questo momento non si sposano con il ridimensionamento del tetto ingaggi del Napoli. Mirko detto questo grazie mille alla prossima anche con te. Grazie a voi grazie a voi buona serata buon lavoro. Tra pochissimo per continuare a parlare di mercato e continuare a parlare di Bernardeschi. Ma ti piacerebbe Bernardeschi nel nell'insieme della rosa del Napoli magari se va via anche Lossano se va via Politano oppure come elemento aggiuntivo anche perché faccio un po' fatica a capire il Napoli come intende piazzare gli esterni per la prossima stagione. Non so se Lossano a mercato ma c'è un equivoco Lossano in questo momento molto grosso. Se l'obiettivo è portare Lossano a sinistra credo che sia un obiettivo sbagliato. Può far bene a sinistra per carità e magari rientrando sul destro può anche segnare forse di più non so ma Lossano deve giocare a destra e Lossano secondo me dovrebbe trovare mercato e andare via perché anche lui è un incompiuta a meno che non esplode del tutto allora siamo tutti felici ma non è il giocatore ideale per Spalletti perché Lossano è un ala vecchio stampo. Punta l'uomo, non ha un bel dribbling, non ha una rifinitura tecnica elevatissima ma vede la porta, sa crossare e uno contro uno è devastante. però tatticamente non è un regista non è non è un rifinitore la fase difensiva la fa ma con un po' di fatica certamente molto più tattici e molto più rifinitori sono Bernardeschi e soprattutto Berardi anche di Politano che anche di Politano è più un ala di raccordo. uno che stringe il campo non è uno che va molto sul fondo tra virgolette. però anche lì stiamo parlando di tutti i mancini Politano, Berardi e Bernardeschi mentre Lossano è un destro che gioca a destra però Simen Lossano fosse il più adatto per il Napoli il più adatto è Berardi, Bernardeschi è un Berardi in sedicesimi molto in sedicesimi e molto meno forte. chissà se sei d'accordo però ti interrompo perché già al telefono con noi chi Bernardeschi lo conosce possiamo dire mister Massimo Drago buongiorno come un padre calcistico? me lo concede? salve salve buongiorno diciamo che è venuto da me il primo anno che calcava i campi del professionismo serio insomma è passato la primavera alla Serie B era ancora ragazzino ma si vedevano insomma il prospetto che poteva avere le possibilità per far bene per diventare un giocatore importante. eh lei lo ha conosciuto come pochi ma il Napoli eh vedendo anche quella che è stata un po' la stagione altalenante di Lossano e Politano potrebbe venire a fare il titolare al netto poi delle cifre dei ragionamenti di mercato parlo di un puro ragionamento tecnico cioè lei Bernardeschi ce lo vede titolare a Napoli? stavo sentendo gli ultimi discorsi che stavate facendo che il suo collega stava facendo e sono d'accordo lui per quanto riguarda il modo di giocare del Napoli e il modo di giocare di spalletti è un giocatore secondo me ideale eh perché è un mancino che gioca a destra e ha la possibilità di stringere il campo secondo me ha nelle corde parecchi parecchi gol che non ha in questi anni potuto dimostrare anche perché sotto l'aspetto tattico la Juve giocava in modo molto diverso con me all'epoca era da ragazzino fece dodici gol giocava ad esterno a destra eh a piedi invertito quindi aveva la possibilità di entrare in mezzo al campo e diciamo che Allegri che ha fatto fare quasi il terzino a volte eh? è bello è bello sì a volte ha fatto il terzino a volte ha fatto la seconda punta ma io eh penso che lui trova grande difficoltà a giocare spalla alla porta lui ha bisogno della fascia laterale eh è un giocatore di gamba quando salta l'uomo lo salta con gamba quindi deve avere deve avere campo per poterlo fare ehm ho avuto modo anche di dirlo l'anno scorso quando c'è stata qualche voce perché anche diciamo c'è un giocatore che già stava con gli esterni a piedi invertito penso che abbia la possibilità se dovesse andare per seno diciamo anche in caso c'è la possibilità di rilassare dalla parte opposta che secondo me è un giocatore che sulla sinistra può rendere maggiormente anche perché come si diceva prima è un giocatore che ha nelle correzioni qualche cosa Umberto per mister Massimo Drago al quale chiedo soltanto se magari riesce a spostarsi leggermente col telefono perché abbiamo avuto qualche difficoltà nel sentire le ultime parole però è stato chiaro Umberto Sì eh ripeto Bernardeschi e Berardi hanno un modo di giocare similare non a caso erano in nazionale eh tutti e due erano considerati seconda scelta rispetto a Chiesa che invece è un Lozzano Chiesa ha le caratteristiche di Lozzano è un attaccante esterno Bernardeschi e Berardi sono dei registi eterni perché ricordiamoci che Bernardeschi nasce numero 10 nella Fiorentina io ricordo la grande partita da 10 con la Fiorentina Lui da destra essendo un mancino riesce non solo ad accentrarsi e tirare ma sa anche creare gioco a qualità registiche quelle che mancheranno al Napoli con la partenza di Insigne visto che a sinistra giocatori con caratteristiche di regia di rifinitori non se ne trovano in giro se non attaccanti bisognerebbe quest'anno invertire il fronte d'attacco sul piano registico e quindi prendere un calciatore con queste caratteristiche che io mi auguro sia più Berardi che Bernardeschi perché oggettivamente è più forte Mister Sì, no, siamo sulla stessa linea d'onda, è normale che io non sindacare se chi è più forte o chi non è più forte sono giocatori bravi, giocatori insomma che diciamo che Mancini nell'ultimo periodo ritornando al discorso di prima con Chiesa anche all'Europeo Chiesa non partiva come titolare ma poi si è visto che non poteva essere un giocatore che poteva rimanere fuori perché rispetto agli altri è uno che ha dimostrato di far più gol quindi inizialmente il nazionale ha giocato sempre un esterno d'attacco a destra che fosse un Mancino però ripeto, si creeranno se dovesse o Berardi per un motivo di fondo Mister, attenzione e la scelta di Chiesa è dovuta anche ad Insigne perché avendo sul fronte sinistro un rifinitore, uno che ti fa il cambio gioco e che ti mette la palla col contaggiri come faceva con Cagliecon nel Napoli a destra c'è uno che attacca lo spazio, che vada a sfruttare quel gioco di Insigne ora che Insigne non ci sarà più e che Chiesa si sposterà a sinistra come punta occorre che quel tipo di gioco lo facciano da destra ed ecco perché Berardi diventa titolare a destra Berardi con Insigne sono troppo simili come tipo di gioco anche perché Berardi segna più di Chiesa ma ha un gioco diverso, non attacca lo spazio Chiesa si ora che Insigne non ci sarà più ci sarà Chiesa a sinistra bisognerà creare da destra e quindi Berardi e Bernardeschi rientrano in gioco lei ha ragione su tutto ma io penso che allora Mancini per due anni ha sbagliato a far giocare Berardi e Insigne insieme perché per due anni prima degli europei Berardi non è vero, Berardi non c'era proprio Berardi è entrato proprio alla fine, nell'ultimo gruppo nei primi tempi, Berardi non era manco convocato è stato convocato proprio al pass prima dell'europeo ha giocato le prime partite dell'europeo ha giocato le prime partite dell'europeo, sì però prima non li provocava proprio per tanto tempo, per tanto tempo nei primi due anni ha giocato con Bernardeschi ha giocato con Bernardeschi insieme giocava un destro a destra e un sinistro un destra a destra e la verità Mancini ha fatto anche di più Mancini ha giocato col falso 9 ha giocato con tutti e tre ha giocato con gente che sa giocare a palloni ha creato assolutamente sì Mister, tra le altre cose si parla tanto anche di un futuro lontano dalla Juventus come ovviamente sarà visto il mancato rinnovo ma la Juventus, uno come Bernardeschi, tra virgolette, non è stato capito? oppure ci sono stati anche un concorso di colpe da parte del ragazzo? sicuramente ci sarà stato un concorso di colpe anche perché quando vai alla Juventus guadagni cifre elevate è giusto che magari ci siano le aspettative che siano elevate e magari tante volte queste aspettative sono sia per un motivo o per un altro sono venute a mancare dovesse dargli un consiglio dovesse dargli un consiglio su dove andare? io se dovesse esserci la possibilità di andare a Napoli l'avevo consigliato anche precedentemente ma per il modo di giocare del Napoli che si adatta a quelle che sono le sue caratteristiche anche lui si adatta a quelle che sono le caratteristiche del gioco del Napoli per cui sotto l'aspetto tattico ha la possibilità di esprimersi al meglio mister grazie mille davvero in bocca al lupo per tutto grazie a voi buona giornata grazie mille a mister Massimo Drago tra le altre un'ultimissima che arriva da Coverciano perché Berardi e Piramonti non ci saranno nella sfida contro l'Argentina quella di Wembley perché hanno lasciato il ritiro appunto di Coverciano e faranno rientro ai club di rispettiva appartenenza a due problemi di natura fisica per i due calciatori che in questo momento facevano parte della lista convocati del CT Mancini Italia e l'Argentina quanto vale in trenta secondi Umberto? quanto vale per il prestigio tantissimo per il resto zero per il prestigio tantissimo in questo momento per l'Italia anche di più perché deve ricostruirsi una virginità perduta l'Italia di Mancini non ha vinto l'Europa per caso queste sono le ricostruzioni a posteriori dei cattivi storici l'Italia di Mancini ha vinto l'europeo con merito e da outsider protagonista era destinata a fare bene era considerata tra dei più forti veniva da due anni di imbattibilità ricordiamoci che la squadra ha il mondo di tutti i tempi con la striscia più lunga di imbattibilità e queste non sono cose che accadono a caso dopodiché ha perso la virginità maledetti rigori di Giorginio sono quelli due episodi chiari però poi dopo viene la paura tutto il resto eccetera eccetera la pagina più brutta scritta con la Macedonia che equivale a una Corea ora si deve rifare appunto la virginità bisogna ripartire con fiducia perché Mancini è stato bravo e comunque la base di un buon gruppo esiste ancora ripartiamo tra pochissimo dall'edito Napoli e vi diciamo cosa farà Mertens nel suo futuro con Napoli che riparte dall'edito Napoli di Umberto Chiariello l'edito Napoli il punto sul Napoli di Umberto Chiariello ci sono momenti lunghi mesi mesi e mesi dove De Laurenti si tace poi ci sono momenti in cui invece parla, parla, parla lui si affida a un social come faccio anche io ma lo fanno in tanti quelli che intendono dire qualcosa che è un social di parola non è un social di lavoro come lo è per esempio LinkedIn non è un social di storie, di foto che ha un target totalmente diverso come lo è Instagram non è un social di scontri, di conversazioni dove puoi scrivere quello che vuoi è una specie di mega blog come Facebook Twitter no Twitter ha un limite di lettere di parole che puoi dire ma è un social di comunicazione è il social della comunicazione non a caso le aziende si affidano a Twitter le società si affidano a Twitter ormai sta soppiantando la vecchia agenzia stampa il vecchio comunicato stampa è molto più veloce mondiale si diffonde più facilmente lui l'ha capito da subito si è sempre affidato a Twitter e beh succede che nel giro di pochissimi giorni lui che non parlava da tempo proprio da tempo da tempo ma tanto per esempio lui prima di maggio aveva parlato pochissimo ma proprio pochissimo se uno va a guardare i suoi tweet 26 marzo 3 aprile 3 aprile 3 aprile 3 una botta poi 17 aprile poi sempre il 17 aprile o se parla ne fa due di seguito a continuazione poi il 28 aprile dove lui i tweet non scrive il 30 aprile sulla morte di Raiola il 30 aprile gli auguri a Ciro Ciro Romeo Mertens il 5 maggio il 12 maggio e comincia il 19 maggio 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 messaggi a fila a fila e cosa ci ha detto? caro Frank che piacere averti ancora con noi Frank Angissà quindi conferma ufficiale di quello che aveva anticipato Angissà è del Napoli e poi benvenuto Mattias Olivera è del Napoli ufficiale e poi Juan Jesus è un ottimo calciatore è una bravissima persona sono molto contento che resterà ancora con noi altra conferma ufficiale tre in una botta sola e aveva anche fatto qualche giorno prima gli auguri complimenti per l'arrivo se ricordo bene di Varasceglia confermando che il Napoli lo avesse preso quattro acquisti perché tali sono Juan Jesus tali sono Juan Jesus e Angissà due nuovi cioè il Napoli si è già mosso velocissimo è la squadra che si è mosso più veloce di tutte cosa ha fatto l'Inter finora nulla il Milan deve cambiare società meno che meno la Juve sta trattando ma cosa ha fatto nulla la prima squadra che muove quattro pedine subito con delle uscite Goulam in signe certe due sostituti pronti il Napoli la teoria uno esce uno entra la sta portando avanti con celerità adesso credo che sia il ruolo del portiere perché li dovranno definire tutti e due via uno dei due via nessuno dei due via si è ricubb bloccato come secondo portiere chi sarà il terzo è tutto da capire per la porta è un vero Busillis ma c'è il quarto centrale difensivo che è andato già via e Tuanzebè c'è il terzino destro di riserva che è andato già via Malquit ci sono altri due buchi da coprire subito e poi si aspetterà il mercato cosa orienterà e cosa muoverà perché a questo punto il Napoli non ha più movimenti endogeni da fare cioè che dipendono da se stesso ma esogeni che derivano dagli altri se arrivano offerte per Gerischi oggi si parla del Bayern il Napoli già è su Barak va via Lozano il Napoli già su Bernardeschi e si parla anche di Berardi Mertens non ha ancora rinnovato si parla di De Lofeu sto vedendo un Napoli estremamente attivo tutti noi io compreso abbiamo espresso preoccupazioni per il futuro ma si vede che De Laurentiis questo giro dopo aver blindato Spalletti eppure ne dice tante e a giusta ragione vuole delle garanzie ha le idee probabilmente chiare su quello che vuole fare una squadra che ha dispetto della crescita del Milan della Juve dell'Inter che sta per prendere Mkhitaryan e Dybala scusate se è poco della Roma che ha alzato la prima coppa italiana europea da un'italiana dopo 12 anni la Lazio che sta puntando giocatori importanti rifonderà parecchio Maciasarri che ha fatto comunque abbastanza bene le ambizioni di commisso e della Fiorentina nonostante tutto ciò De Laurentiis si sta muovendo con autorevolezza insospettabile in altri tempi e questo evidentemente è il carburante che gli è derivato dalla Champions che lo ha portato di nuovo a sparare a zero su tutto su tutto e su tutti ma anche a muoversi con una celerità normalmente non conosciuta citavi prima anche Mertens il tuo edito Napoli che ha curato molto bene la questione Mertens permanenza futuro eccetera è il collega di Cronache di Napoli Marcello Altamura ciao Marcello eccoci buongiorno 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 a voi in una lunga in lungo approfondimento anche a doppia firma con il collega Oletta avete un po' cercato di ricostruire quelli che sono un po' i passaggi che potrebbero portare Mertens ti chiedo a restare in azzurro eh questa questa è una bella domanda è la domanda da un milione di dollari eh oggi ovviamente eh noi facciamo una ricostruzione su Cronache ovviamente di uno scenario che in questo momento è plausibile è possibile ma che ovviamente questo patricitato non è detto che eh scriverà il classico lieto fine eh l'idea ovviamente che eh il Napoli il Napoli e Mertens oggi come oggi si aspettano no? è una partita un po' a scacchi dove eh ognuno delle parti deve fare aspetta che l'altro faccia eh la prima mossa la settimana prossima diciamo i prossimi dieci giorni saranno un po' cruciali perché ovviamente Mertens eh sarà libero dagli impegni con la sua con la sua nazionale per la Nations League ehm e si si vedranno magari in campo neutro eh si si chiariranno si metteranno a tavolino e probabilmente questo sarà diciamo l'appuntamento decisivo perché il Napoli insomma ha sempre eh e anche della Ventis è sempre è sempre stato chiaro no? sulle modalità cioè Mertens può restare il Napoli a piacere che resti però ha un ingaggio ridotto rispetto a quello che percepisce oggi e un anno di contratto magari con un'opzione eh sul secondo e ovviamente ovviamente con un ruolo che è diciamo parametrato anche all'età all'esperienza di del Belga che è un giocatore importante è un leader dello spogliatore l'abbiamo detto eh praticamente tutto tutto quest'anno però ovviamente ci sono c'è una squadra e c'è una chimica di squadra da da salvaguardare quindi lo scenario lo scenario è questo speriamo che almeno personalmente mi auguro che eh la storia finisca con il più classico degli happy end però chi vivrà chi vivrà vedrà insomma si tratta di di aspettare ancora relativamente Umberto chi vivrà vedrà ma non è che ci sta tutto questo tempo anche perché a Roma hanno un progettino mica male il Ciro più Ciro che non sarebbe una cattiva idea figurati poi i Sardi che lo ha inventato centravanti se non lo abbraccia tanto volentieri e gli danno anche un paio di milioncini che non fanno niente male e Roma è una città che a Ciro piacerebbe sicuramente ehm che dire eh bisogna che anche su Mertens il Napoli e su Ospina il Napoli faccia una veloce riflessione e una decisione rapida sono due elementi eh troppo importanti per il Napoli del futuro sia in campo che fuori eh da poter portare la situazione troppo in avanti anche perché se poi Mertens non vuole non viene rinnovato bisogna fiondarsi su un giocatore che abbia caratteristiche adatte al Napoli che lo possano sostituire in qualche ruocare in qualche modo ripeto De Lofeu mi sembra un giocatore molto adatto al Napoli eh e sarebbe un grande acquisto ma potrebbe venire anche in presenza di Mertens perché De Lofeu si accomoderebbe sulla fascia sinistra come fa Udine lasciando a Mertens la posizione centrale Marcello per salutarci facendo il bollettino percentuali permanenza Mertens percentuali permanenza Coulibaly allora Coulibaly secondo me è una percentuale alta diciamo un 70% però a scadenza senza firmare un rinnovo Mertens a questo punto ad oggi se tu mi chiedi la percentuale io dico 50 e 50 e c'è la possibilità che resti ma c'è anche la possibilità che vada via e giustamente Umberto citava la Lazio perché comunque è una serie candidata una serie squadra interessata al Belga per cui è una partita aperta e credo che appunto Napoli adesso voglia come dire sbrogliare questi due errori i due principali sicuramente sono Mertens e sono Spina perché ovviamente da questi dipendono anche le strategie di mercato in quei ruoli per cui bisogna bisogna andare a sbrogliarlo perché poi si fa presto ad andare a fare la data del ritiro a Dimaro insomma c'è tempo ma non tantissimo è il tempo stringe il tempo stringe vedremo cosa accadrà Marcello grazie mille davvero per essere stato con noi grazie a voi buon lavoro al collega di Cronaca di Napoli Marcello Altamura noi siamo quasi in chiusura Umberto in 30 secondi mi devi dire cosa ne pensi che domani ritrovi Marco Giordano Umberto insieme dai mamma mia eh lo so come è venenum in cauda venenum in cauda venenum e domani l'ultima con cui chiudiamo la stagione ci voleva il veneno nella coda esattamente Marco Giordano ci ah e vabbè tra l'altro si è riposato in questi giorni ha festeggiato il compleanno è stato bello tranquillo e poi adesso insomma ci verrà a deliziare io già gli ho detto che pretendo le paste anche al Giovanni annunzato abbiamo siamo stati categoric questo mi pare chiaro non ce la può scappottare no ma non entra se non porta qualcosa cioè tre anni di tre anni che abbiamo fatto i compleanni qua eccetera tutti io porto persino all'onomastico non ho visto un cornetto offerto da Marco Giordano uno che sia uno in tre anni uno che sia uno te hai una sindrome dell'orendis Samanilla a fazeppola è un po' australiano un po' a canguro mettiamola mettiamola così mettiamola così Samanilla a fazeppola domani Umberto grazie mille davvero ci becchiavo domani anche in studio con tanti amici tanti ospiti a domani con Umberto a domani con Giovanni Annunziata a domani a domani e noi ci ritroviamo domani alle ore tredici con punto nuovo sport show sempre con tutte le ultime domani sarà un appuntamento ovviamente molto 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 particolare li troverete anche Marco Giordano dal sottoscritto invece Alessandro Montano è tutto vi lascio alla buona musica di Radio Punto Nuovo a domani